Che film abbiamo visto? The Circle The Circle L'ho scelto io Ha scelto lei? Sì Ok Sì Perché mi ispirava, perché mi piacevano gli attori In effetti anche a me comunque piacevano gli attori Chi ci stava? Tom Hanks Emma Watson E poi ci stava il panere di Emma Watson che pure è famoso Sì, sì, però non mi ricordo il nome Manco io Ok Che ne pensi? No aspetta, racconta la storia senza fare spoiler Ma io li faccio Dai Li faccio sempre Niente, racconta la storia della protagonista che è Emma Watson La quale viene assunta in una grandissima azienda Che è The Circle Di che cosa si occupa l'azienda? In pratica è un social network Sì Dà molto l'impressione del Facebook un po' più avanzato Ma del futuro Sì, e poi? Continua E niente, no, in pratica cosa fa? Assumono sta tipa Lei ha dei problemi familiari, eccetera, eccetera Viene inglobata a tutti gli effetti Nelle policy dell'azienda Nella mission dell'azienda Dove in pratica tutto deve essere condiviso È condivisibile anche in un certo senso Tutto Tutto A 360 gradi E quindi lei, diciamo, deve scendere in un certo senso a patti Con la vita di tutti i giorni E con queste Diciamo, ciò che deve fare è essere completamente trasparente nella sua In tutto ciò che fa, insomma Esattamente E vabbè, ovviamente ci sono diversi risvolti Che poi le persone che vedranno il film Capiranno Capiranno Ok Ma non mi potrebbe mai succedere una cosa del genere a me Che significa? Che io non vorrei una cosa del genere Tu non vorresti una cosa del genere È vero che in alcune situazioni è stato importante Esatto Però in altre è stato mortale Hai fatto uno spoiler Aspetta, cancelliamo questa parte Uffa Vedi, io non sono a contare Senza fare gli spoiler Vole una parola Mannaggia No, lo lascio Che bene fotte Ma è una cosa notica Che ce ne vuole Vai, comunque Io ti amo Anch'io Allora E quindi stavi dicendo E quindi sono combattuta Eh, combattuta Esatto È proprio questo Secondo me il film Di per sé Il film è thriller psicologico Tu così lo definiresti? No, no, stava scritto Ah, thriller psicologico Sì Ma in effetti sì È molto psicologico Vabbè, drammatico Molto drammatico È molto pesante Secondo me all'inizio Tra l'altro È un po' un diesel Cioè fatica a decollare Però dal secondo tempo in poi Sì, sì Diventa un... Interessante almeno Sì, interessante Interessante Se diciamo L'avessi dovuto valutare Fino al primo tempo Avrei detto Non è un film che mi è piaciuto Anche all'inizio Un po' Troppo Forzato Vabbè, no, però Alla fine del primo tempo Mi ha lasciato la curiosità Di capire cosa Poi sarebbe successo A me sinceramente Tutti i film Mi portano comunque Di vabbè Vediamolo fino alla fine Per poi giudicare effettivamente A me no Quando abbiamo visto un altro film Io ho arrivato in intervallo Ah no Vabbè, effettivamente Vabbè Vabbè, ho fatto un caso estremo E... Vai Eh Cioè tutto il tempo Durante il film Cioè uno si pone Una domanda È giusto o non è giusto Un mondo così connesso Sì, infatti Anche perché lui ti porta Continuamente Degli esempi positivi E delle cose poi negative Esattamente E quindi tu dici Ah ok È servito per questa cosa Meno male che c'era Wow Guarda che è successo Se non ci fosse stato Sarebbe stato molto meglio Sì È un po' come quello Che è successo a me Quando Eh Di che cosa stiamo parlando Nel fatto di rendere visibile Tutto a tutti eh Perché se no non si capisce Ah certo, certo Cioè la condivisione Di tutto Di tutta vita A 360 Privata e pubblica Però è altrettanto vero Che È un po' quello Che è successo a me È successo a tantissime persone Come me Altrimenti Facebook Non avrebbe avuto Il successo che ha avuto Io ero in Spagna Quando scompro Facebook Contatto mia mamma Su Skype No Messenger C'era MSN Che poi è stato integrato Come Messenger E dico Mamma Che cosa meravigliosa Ho scoperto Una piattaforma Che Riesce A connettere Un sacco di persone Grazie a questa piattaforma Puoi trovare I tuoi amici Delle elementari Le persone che non mi diano Un sacco di tempo Mia mamma dice Oh è come si chiama Facebook E da quel momento La vita è cambiata In un certo senso Anche la mia è cambiata Infatti è una cosa che poi Si riflette molto sui social Sì 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 esattamente Poi io sinceramente Siccome sono Comunque faccio un lavoro Che è costantemente Connesso All'internet Ai social E così via Infatti poi in realtà Non è che parla Non è che parla Diciamo Fa una pantomima Del social network Facebook No Parla anche in un certo senso Di Youtube Sì 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 Biglia a 360 gradi Tutti i social E Capivo tante dinamiche Capivo Le marchette Che sì sono evidenti Chiunque le capirebbe Però Quante ce ne sono Per esempio Ci sta una scena E veramente Fateci caso Per chi lo vedrà Questo film Quando lei parla Con i genitori E si sveglia Cioè si sveglia La mattina La prima cosa che fa Parla con i genitori E i genitori Indossano un braccialetto Che indossa anche lei Che è un braccialetto Diciamo salva vita In un certo senso Cioè che Controlla tutti i parametri I parametri vitali Di una persona Insomma E dicono Ma guarda Com'è bello Si intona bene Anche con la carnagione E non dà proprio fastidio Cioè una classica marchetta Sì Classica marchetta Che si vedono Su youtube Costantemente E costantemente In qualsiasi tipo di video A scapito magari Della genuinità Delle persone E per questo Che nocciolino Non ha mai successo E gli altri Sì Perché evidentemente Sanno Fai marchetta Si devono fare Vabbè Lasciamo stare Quindi E quindi Che penso Penso che Un film che lascia Tanti punti interrogativi Sicuramente angoscia A me mi ha angosciato Tantissimo Mi ha molto angosciato Un film pesante Però che consiglio Sinceramente Di vedere Forse non al cinema Magari Lo possono vedere Tranquillamente A casa Una domenica Quando volete fare Tipo impegnati Cioè Vi dovete Non lo vedete Con qualche cacacazzo Che odie social network Perché altrimenti Mi fa due coglioni Così dopo il film Ovviamente Però Devo dire La verità Diciamo Nel complesso Sai non ho scelto Malissimo Non è scelto malissimo Mi è piaciuto Ok Vogliamo dare Stavodazione A te ti è piaciuto A me mi è piaciuto A te ti è piaciuto Sì mi è piaciuto Quello non l'ho trovato Così pesante Easy Molto pesante Ma il punto è che Poi uno capisce dopo Capisce dopo Anche per esempio Alcuni dialoghi Fatti molto in una maniera Fatta tipo pantomima In realtà Secondo me Sono stati proprio Voluti in quel modo Cioè Un po' Mi ha ricordato I dialoghi Un po' come Edward Mani di Forbici Edward Mani di Forbici Per esempio Si vedono delle scene Dove vive La tipa La ragazza Che sono In questo quartiere Tutto colorato Con un cielo blu Che non esiste E quindi Questi dialoghi Che ci sono Che sembrano un po' Forzati Soprattutto come Quando per esempio Emma Watson Incontra una persona Un punto chiave Insomma Sembrano Non reali Non reali E' un po' Però quel non reale Che continua a esserci Durante tutto il film Anche nella realtà Cioè Nella vera realtà Perché Quando uno sta davanti A una telecamera Necessariamente Si trasforma Per forza E' un po' come Metti Cioè E' un po' Stavamo parlando Ma è un po' Più sciolo No Ne ho vengono Perché Ne ho vengono Davvero Vabbè Basta vedere poi Il video della settimana 3 Per capirlo Esatto 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 La settimana 3 Che siamo veramente così Proprio Purtroppo Si Ma che cosa ne pensi Dei letti dell'Ikea Una domanda Facciamo sta Basta Continuiamo Continuiamo La parte finale Mi è piaciuta La parte finale Ti è piaciuta Non possiamo No A me la parte finale No vabbè Però dico Sì Doveva farlo Ok Ok Però poteva Secondo me Essere fatta meglio Non proprio La scena finale Sì sì Ma io parlo Il finale Poteva essere Articolato meglio Siccome è talmente pesante Secondo me È stato pesante Poteva essere Altrettanto pesante Da dire Cazzo Vi do l'ultima Botta finale In questo modo Cioè uscite piangendo Da qua Poi dopo mi dici Come volevi Che fai Vabbè Sì perché Se no facciamo spoiler Facciamo questa votazione Ok Va bene Va bene Aspetta Siamo ancora inregistrato Perché l'altro video Non si è registrato Sì La votazione è breve Per questo Ok Al mio 3 Ok 1 2 3 6 Sette E' piaciuto più a lei Perché io ho dato Un voto più alto Il film Sono diventata esigente No io ho 7 Facciamolo No facciamolo 7 6 6 e mezzo Sì 2 Ciao, grazie a tutti, ciao.